Amici, qualche tempo fa avevo fatto il video se pronuncio la lettera B, il video ricomincia. Vi è piaciuto tantissimo, mi sono divertito tantissimo a farlo, quindi perché no ne facciamo un altro. E la lettera di oggi, scelta totalmente a caso, è la F. Mi sta molto antipatica la F, non so perché, ma non mi piace. Quindi signori, prepariamoci a fare il delirio. Ho già detto una F. Partiamo male, ma facciamo che vale da adesso. Meglio così. Iniziamo. Quindi andiamo su Crea un nuovo mondo, e io direi che il suo nome, in onore appunto anche del vecchio video, è No. No Party. Party. Con tante Y. E appunto creiamo il nuovo mondo. Ovviamente in survival, per chi non si fosse accorto, ma ovviamente vi siete accorti tutti, sono da PC. Non so perché, preferito registrarlo da PC, non da PlayStation 4. Un po' per variare, tanto per. E vediamo dove ci fa... Eh, ho già detto la F! Oh mio Dio! Devo ricordarmi di non dire il verbo a fare! Oh mio Dio! Partiamo malissimo! Ricominciamo. Addio Polletto, a mai più rivederci. E ridendo e scherzando, siamo già al secondo episodio. Ok. Create new world. Scena già vista? Molto probabilmente sì. La rivedremo ancora tante volte? Molto probabilmente sì. Speriamo di no, vi prego. E speriamo soprattutto che ci spawnare in un bel... no. In un bel nulla. Ok. Quindi, dato che non ho mai degli obiettivi, e tra l'altro, mentre sto parlando, sto anche pensando a non dire quella lettera lì. Quella lettera lì! Non dirla ma sì! Non dirla ma sì! Vabbè, piccolo momento di... ok. All right, all right, all right. Ci siamo presi 5 di legno. Però, siamo spawnati in un posto privo di praticamente tutto. Oh, che carino! Ma che carino! Ma ciao! Tipo il gabibbo. Sembra... fa molto gabibbo, eh. Ciao pesciolini! Ciao pesciolini! Ciao pesciolini! Vabbè, lasciamo perdere i pesciolini. Mi dovrei dare degli obiettivi? Sì, ma non saprei quali. Oh, ogni volta me li do ma... Oh, ciao polletto! Sei tornato, eh? 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 Eh, polletto! Eh, polletto! Eh, polletto! Ciao, polletto! Oh, dove credi di scappare? Oh, dove credi di scappare? C'è una zucca che la tiro in testa. È sotto! Non sei ancora morto? Oh, quanta vita c'ha il pollo! Cioè, oddio, aveva più resistenza del weeder! Non che io abbia mai sfidato il weeder. Spero tanto di non trovarlo il weeder. Come dici, ti ho appena ucciso il maritino. No, non è come sembra. È stato l'uomo nero sotto il letto. Non sono stato io, stupido pollo. Qua c'è il peggio mare. Un'esplorazione nel mare non ha senso. Tra l'altro, l'altra volta avevamo trovato Atlantide, totalmente a caso. Ok, va bene così. Però siamo spawnati in un posto un po' spoglio, in realtà. Non troppo... Quindi saltiamo. Sto continuando a girovagare finché non trovo roba, ma al momento non sto trovando niente. E tra l'altro, io sto parlando, ma in realtà non so se ho detto quella lettera lì. Non lo so. Parkour. Parkour. Eh, vabbè, questo pezzo d'erba nel nulla? Come la mettiamo, eh? Eh, Mojang? Eh, Mojang? Eh? Abbiamo fatto... Ci abbiamo i bug nel gioco, eh? Abbiamo i bug nel gioco, Mojanghini. Ah, tra l'altro, per chi se lo stesse chiedendo, perché molti magari se lo stanno chiedendo, non sto usando le cuffie. Dai! No, ho detto cuffie! Oddio! Oddio, perché vi devo spiegare delle mie cuffie? No, ora ve lo spiego. Non sto usando le cuffie perché non voglio ascoltare l'audio del gioco, perché me lo voglio godere così. Ciao, ricominciamo. Sono un idiota. Sono un idiota. Addio mondo. È stato un onore. Ti prego, fammi spawnare. Allora, dove voglio spawnare? Voglio spawnare dove ci sono i panda. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, panda, 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 panda. Oh, ma spawniamo sempre nella giungla. Ma è il posto di prima? Ma ci ha raggirati il gioco? È palesemente il posto di prima? Ma what the fuck? No. Ora voglio andare ad esplorare. Se troviamo di nuovo il coso d'erba penzolante, baggato, è chiaramente il posto di prima. Oh! Villaggio! Villaggio! Civiltà! Sì Che poi stavo pensando Tipo giovanotti questa challenge se la può dimenticare per sempre Tra l'altro ciao cavallini No ho sbagliato tasto scusa Eh non c'ho la montatura Mi dispiace cavallino Devo abbandonarlo Dicevo a giovanotti non piace questa challenge Se voi avete capito il perché Scrivetemelo nei commenti By the way Hello bitches Uh del pane bene del pane Mi prendo tutto e mi prendo anche la vita di queste mucchettine Hola bola Hola hola Mucchettine Quanta vita hanno Ok ho saccheggiato come se non ci fossero domani Salve signor villager Oh mini villager No Non ci credo Ciao E se gli tiro una sberla Cosa succede se gli tiro una sberla Perché quello lì era travestito e poi è diventato normale Cosa sto succedendo in questo villaggio Lo scoprirà Master Detective Mi dispiace piccolo villaggiero Ma sei stato saccheggiato Dove è andato? No dove è andato? Ma io quasi quasi Una sberlettina In alto in volo Assassin's Creed No che stupidata È vero è vero che c'è il golem Ormai sei la mia vittima Non fate Don't try this at home signori Oh quanta vita Dove è andato? No è scappato Oh e invece E invece Mi sa che non può morire Vabbè per ora Ti lascio in vita Ma stai attento Sotta dall'alto Uh bonjour golemon Lo picchiamo? Tanto ormai oggi siamo in vena di picchiaggi Quindi vai Qua nessuno che ci vede Sotta Colpisce e scappa Colpisce e scappa Vai 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 Spotta Scappa scappa Ah ah No non girarti Non girarti Master Non girarti Non girarti Uh invece E se ti tiro una mela Stop Uh vai uccidiamo il golem Totalmente a caso Non mi fai niente Com'è? Cosa c'è? Cosa avete visto? Non è successo niente Mica ho picchiato un golem E lui mi ha disintegrato Ah non è successo niente Comunque volevo andare ad esplorare La casa Del fabbro Perché ho detto La F di fabbro Sono un idiota Totale Totale Ricominciamo Vediamo dove nasco Nascerò In un posto bello In un posto Un po' carino Stiamo al cinquantino Dai dai Master spone In un posto Bel fa schifo Non mi piace Oh Oh sta andando avanti da solo Cosa sta succedendo? Ma signor maialino Ma lei mi ha tirato le sberle sul Q Ma maialino Cosa fa lei? Mi ha tirato le pe... Oh è pieno di maialini È la montagna dei puerci Questa la chiameremo La montagna del puerco Ma che cà Ma che cà Ma che cà Però Questo posto Non mi ispira E quindi Ho io la soluzione Per cambiare posto Fatto fa Forza figlio francese Ah ah Non avete il bidet Stupiti francesi Fatti fatta figlia Finale Finalmente faceva Fece Forze Ricominciamo Allora questo deve essere l'ultimo tentativo Perché non ho più voglia di ricominciarli Totalmente a caso Anche se l'ultimo l'abbiamo fatto un po' apposta Ma va bene Lasciamo perdere E questo è il nome che daremo Al nostro ultimo mondo Create new world E come sempre saliremo in cima a una montagna Urlando una parola Che inizia con quella lettera Quale parola urlerò mai? Boh Non ho un'idea No non ci credo Non ci... Oh oh ci sono pure le api Ho un piano Attacco dall'alto Ah scappa 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 Ah 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 Cioè quante probabilità c'erano Di spawnare In due mondi diversi Con due villaggi diversi Scrivetelo nei commenti Perché magari è una cosa ovvia Salve Uh 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 Allora sto giro Voglio andare lo stesso Nella casa del abbro Però non la trovo Non so dov'è Quindi nel dubbio Sata l'ape Ah 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 Quanto danno prendiamo in caso Ok Ciavele No no Scusa Ok scusa Beh siamo messi Decisamente malino Allora Lasciamoci alle spallettine Il villaggio E oh mio dio Guarda quanto è bello No voglio saltarci dentro Eh però poi come ci salgo Ok devo controllarmi Devo controllarmi Eh però una saltatina Non c'è una montagnella Non c'è una montagnella Una pagnottella Però Uh è pieno di A Salta il burrone Eh non è un burrone Però ci sarei caduto dentro E' un burrone E' un burrone E' un burrone E' un burrone Che ho mezzo cuore Vabbè Diciamo che è finita in tragedia Signori, non pronunciare la lettera F È più difficile di quello che si pensi È tipo solo in tre parole Ho detto 76 volte la F La F, signori, la F Quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto Guardate come metteremo la mia mano Vabbè, lascia perdere Spero che questo video vi sia piaciuto Io vi do appuntamento domani alla solita ora Ovvero alle 2.45 Non so perché mi sto muovendo Ma è molto rilassante Con un nuovo video Ciao